si da qua è facile dall'inizio è facile e poi ahuuu ahahah stefano ahahah stai veni ah 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 madonna quanto rallento sto voluto non voglio ficca sotto la gente di guai e non le guai non voglio non provo cittadino oh porco dio ficca sotto un quad ahahah 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 ma mi stai facendo farsi percorsi perché mi vuoi torturare o perché ci vuoi fare il video perché? perché mi vuoi torturare o perché mi vuoi fare il video perché? si torturava ahahah è uguale qua abbiamo passato di scalli per farlo se ci vuoi passavo tanto l'ho fatto prendere questo apposta perché ci vuoi passare con calma eh vediamo se lo scopo sta qua mamma mia se li mangia sti cosa oddio che vaia si sa un po' cacca ma roba che batta aio aiuto dai come si è fatto appoglina per l'alto tu come lo stai sto qua giù sto con cala di scogli ti avevo detto ci voglio mettere l'armatura no no ma l'armatura serve per i proiettili no per la resistenza contro gli urti no si ho visto quel bastardo di Bissard che si mette all'armatura sbatteva al centro allora addosso le macchie e si distruggevano con altri ma seriamente che? serve per per non farlo il rifugio subito beh uuuuh no me lo dici maronna lo sapevo che io no penso fosse solo per resistere tipo alle esplosioni e ai proiettili no e poi se ti diste la spazio dei proiettili e poi poi si distavolta anche non ne so penso che uno spazio ma se com'è se ne esistono delle esplosioni non manca duro non credo di fare granché beh ma sapate difficile ad usare aspetta aia sali no non c'è salito su n Royal aia guarda 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 aia guarda ma che hai avuto ma un po' rallenta un po' guarda eh no no voglio quando si schianta no di cavolo che mi hanno messaggi mamma ma c'è che ne cocaina e va a farla la pulizia c'è che ne cocaina non l'avevo silenzia dopo l'arco del demonio allora ecco che inizia la parte difficile almeno per gli altri fuori strada non so per questo avrà difficoltà ah non mi dico che stai passando sopra perché ho sconciuto con calma con calma con calma marco schifo aiuto oh mannaggia chi ti campa e adesso vai avanti qua 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 dove cacchio vai guarda wall ride oh che tecnica aspetta chi è quell'andicappato che si va a distrugger fuori strada qua mattia è una sfida silenzio no dai ma dai mannaggia mattia chi ha nessuno mi sto detto mannaggia giù sali sturdito maronna tanto non molto torniamo sulla strada e lo richiami richiacco si se ci ha messo l'assicurazione devi già messa oddio ci facciamo la risalita qui non credo io non lo so ma vero che si è messo pure il vetro scurale e poi dice a me che mi metta la vernice giù eh ma io ce li avevo soldi oh porco dio no no è finita ma porco di noi no no me no av Sì